Buonanotte, buonanotte, l'ultima edizione di Power News ammette Giulia e Margherita. Mi t'abbai presentavo Power Top News per anni e anche cominciando fuor di promedìa con la nostra lanza Power TV. La famiglia di Power è anche in grande serie, anni e di un canale di televisione e riba social media per Arruba. Power TV è lanza un concetto nuovo e differente, ufficialmente, dia promedì September, che per certo è un'idea che Power FM accompli su di quattro anni di esistenza. Power TV ti guardo mirare riba nel website powertv.arrupa.tv come tambe per guardo mirare riba Cable, Canal 55, Arruba, Nacorso, Riba, TDS, Canal 22 e Canal 62 e naboneiro via Talbo, Canal 2 e TDS 22. Power TV è un concetto differente che su metà principale è per educare, informare e entrettenere. Pa'anno 2017, sta trattando duro per s'inibito una programazione interessante per la nostra comunità. Entra altro, Power TV pronto lo lanza un late night show, come tambe un program di opinion pubblico. Junto a questa quina, Power TV ti sono notizie e rotambe Power News, dappure annoci, scettere mei di annoci. Seguentemente, nostra vai passa parte del lanzamento offiziale di Power TV. e la persona che aveva i anni sta seguendo noi attraverso di Power FM, sua webpagione, sua webpagione, ora qui potenho un link, potenho, potenho, potenho iscriviti e potenho, 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 not live. E persona che non ti acostumis con Power FM, sua webpagione, è molto bello, ti ho conosciato un po' qui per sobrare By Dwayne e se intambi guardo così full di nuovo tour e DJ e ora e biografia e unico biografia con nota e rimane te sono dimmi? Voi te vieno conoscivo? Perchino per sobrare mi noia chance di scrivere però pronti tu vai te però innanzitutto conosci un tiqui mas di NOS RINGERS ma anche per ascoltare lo che è POWERFM con AVE 4 anni però ademais di questo mettiam il link come mi explica e se voi non logra catch up con questo di POWER ma è facile mettiam la powertv.tv ma mi sta ripetendo e sta powertv.tv e anche simultaneamente attraverso di NOS Facebook di POWERFM e TURCOS che è praticamente questo qui non è un stream di Facebook di TAMBI? Simultaneamente NOS RINGERSIBA NOS RINGERSIBA di POWERFM NOS RINGERSIBA di TAMBI di TAMBI di TAMBI di TAMBI di TAMBI ma di TAMBI 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 E Grazie a tutti. 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 ... 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 del 2013. Mi lo traja estrechamente cu tur mi colega nan facina nos pocrea miho entendimiento del reino di un banda pa lo cual trata el deseo di Holanda y con Nankerwak el futuro di nos paiz, pero más importante tambi é moda cu Aruba ta traja facina crea un bienestar general para nos ciudadanos y para comprensión a que existe dentro del reino holandés. Mi se menciona que el reentrada del ex ministro de finanzas Juan David Eroskin ha sorprendido a la gente mirando que su persona me ha mandado un carta el tempo de su retiro para el primer ministro Eymann expresando su desconfianza del gabinete Eymann. Comunidad de Aruba ta pendiente pa mira se viaja aquí si señor Juan David lo cumple e cu so de Bernan ten a final. De implanta di web Aruba e ground breaking oficial pa instalar Flywheel, un sistema di guarda energià sostenibla tome lugar. E tecnica di Flywheel lo stabiliza e fluctuación di fuente nan di energià sostenibla e consecuentemente e generación y suministro di corriente. Ese que lo hace e operación total mas eficiente. Menesternan Mike Eymann e Mike de Mesa hace acto di ground breaking den presencia di gerencia di web Aruba, Temporal Power e demás invitado. Den cuadro de proyecto e companià nan junto co contratizan an Albo Aruba e Ace Firm hace donación e financiero na Animal Shelter Aruba, Casi Cultura e API Ciencia e Tecnologia. Aruba really is leading the way and that's one of the things that I'm most excited about in working with the team here and I'm not going to tell you about our flywheels instead I'm going to talk a little bit about innovation and innovation is is one of those topics that people usually say is is difficult to do it takes a lot of courage to be innovative and to lead the pack and that is true but I think more than courage it takes a significant amount of discipline and I'll use an analogy of icebergs which maybe you're not that familiar with but in Canada we we have a lot of icebergs and with an iceberg only ten percent of that iceberg is seen only ten percent is above the water ninety percent of the iceberg is below the water and that's a little bit like innovation you see the vision you need to be above the waterline to have the vision to see ahead but that vision doesn't work unless you've got that ninety percent in forward thinking good engineering exceptional project management execution and follow-through those are the things that actually make projects work and and I think the reason why coming back to why I'm excited to be here and why I'm really excited to work with his team is what I see in looking at the flywheel storage company what I see in many of the things that Aruba's embarking on they really are world class they really are pushing the envelope in environmental stewardship and I'm very confident that Aruba will be successful and I'm very confident they'll be successful because I'm working with people that have a great vision and that vision is backed up with great execution and great technical minds the flywheel is a way to almacenar energy for the production of water it's easy to produce water here if we don't have to take a look at what we consume, we don't have to take a look at the tank, the tank is not full, so the consumer is going to open a crunch in the gas and there is water. For the energy, we don't have to see that. At the moment we have water, according to the demand, we have to produce. Our operators are and we are continually aware of what we have to do. We have to store the demand to be able to maintain the balance of the supply. Flywheel is a technology that helps to store it. You can buy a tank of water, but it's not simple. Flywheel is another technology that we are looking at and studying, among other batteries, and we also have to use the water compressed air system, which we are evaluating. But the flywheel is also a technology that doesn't have to advance and we have to come to a contract and we are going to inaugure it. What is the flywheel? The flywheel is a system that is basically the tank of 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 the tank. So this is what the flywheel is very large. In particular we are iron freshenes from the tank's jestem under the tank of the tank of the tank. Here in particular the flywheel is basic which you can cast off the tank on the đấy again. So here is the flywheel from the tank in the air. What happens, it channeling that to flywheel is the continuous program that is important for all of us. ogni nubia passa e fa affettare la produzione totale riva e isla. Questo è un'instabilità del grid. Il viento è una situazione, il viento è subito, il viento è subito, il viento è subito, il viento è subito per generare un balancio di energia. Il flywheel è aiuta a absorber energia extra nel momento in cui la demanda è subito, e anche nel momento in cui si ripiente, per esempio, il suministro di viento, di solare, e il flywheel è entregare energia all'interno. Questo è lo che aiuta con il nostro equipaggio di operazione, che sia più stabile e non si sia subito e subito in capacità continuamente. Inversione tal del progetto è stato di 17 milioni di florini, e che ora il rappresentante del Consorzio di Banco dà una parola, un'altra parola di grazie a tutti i nostri team di web, per aiutare a noi. che ci sono stati. E l'installazione che noi abbiamo un totale di 5 MW, che abbiamo 5 MW di energia che è disponibile per un periodo di 13 minuti. Un periodo di 13 minuti è sufficiente per i nostri operatori, per caso, che un cambio drastico di produzione, è un periodo di tempo per fare un'azione, sia se faccia un'equipo per il servizio, o se faccia un'equipo per il servizio. E l'intenzione si tratta per dare un piccolo spazio. Questo funziona in principio con un shock absorber di un'auto, per aiutare a stabilizzare l'operazione. Il progetto di guarda energia lo risulta in un parco di 20 Flywheel, con capacità totale di 5 MW. Flywheel forma parte di una plataforma di web per integrare energia sostenibile, quali arriva su turno da parte di Aruba's Renewable Energy Strategy. E se c'è un passo mas per la graficione di web di da Greener, Cleaner e Fuel Oil Free per 2020, c'è un soluzione mas per integrare fuente di energia sostenibile di web su rete di produzione. Se c'è un planning e progetto di Life nel quattro quartale dell'anno 2017. Dessere il 12 novembre, il rumor sta circolando con il ministro di Turismo, Transporte e Sector Primario, Ottmar Oduber, dopo 27 anni di politica di abbandonare il partito di AVP. Il seguito è un'invitaio per una conferenza di prensa per la casa di Soma Giornano, che non si accade a confermare il sospetto che in vero è quello che è il caso. Il candidato è di 2 lugares con più voti in Aruba, in compagnia di sua signora esposa, e con il suo mayor e il sospettatore, adona un relato, hop e emozionale e diretto di suo motivo per ritirare entrante immediato di partito AVP. Dames e caballeros, buon tardi, miembro di prensa, un felice tardi. a tutti i nostri amici, un po' di sintonia nel momento non è qui, romanzo non, ma ne da sempre mi sta a riferire, tutti i miei amici non, e anche i miei amici non, Senta romanzo non sta. a buon tardi, un rato passato, mi ha capo di sali fuori di cabinete di signor governador, signor Refignol, che mi ha dato, signor Refignol, un carta, che mi ha dato a ritirare la mia posizione come ministro di turismo, transporte, settore primario e cultura, di immediato. di immediato. Per me come l'lantà, signora mostravi un whatsapp di mio amore da l'exteriore e manda, questa festa non vi darò che non vi dà come si usi a scopo per il momento in cui ci permette di silenzio con questa etapa cosa importante per le comunità. Un joven, un joven di appena 19 anni, con i miei altri tre anni, con mia signora, a dedicar hopi, non c'è un signore, posso dire che ora, a dedicar hopi anni di mia vita, sua vita, a pesa di cui è una tribunista, la politica, la mia maggiore, la mia signora, la mia romana defunto, la mia inspirazione tutto il giorno, da sei che la laganoz e la mia romana Luiz, la mia romana, naturalmente, da sostener cada unico e passo in un comitato, non già l'acqua, però poi basta, un anno acaba. Mi ha entregato, il signor governatore, la mia carta, dopo di cui basta, una luna a largo, conversazione a tomar lugar e di una transparencia con sempre una luna nella comunità, sette anni e un luna, per cui mi da menenza di paese a qui, goede bisa textualmente, excellenti, met referte a mi brief de datum 22 februari 2016, kenmerk mentetpsc 2006 slash 0031, waar ik mijn per 1 maart 2016 voorgenomen ontslag introk, bericht ik u als volgt. Aangezien de toendertijd gemaakte en door de ministerraad gratificeerde afspraken die voor mij aanleiding waren om bedoeld voorgenomen ontslag in te trekken, sindsdien in onvoldoende mate zijn uitgevoerd heb ik besloten om met ingang van heden in mijn ontslag in te dienen als minister van toerisme, transport, primaire sector en cultuur. Veja, 13 november. Deizembre comissaria annuncia con delegación grande di Parlamento viaja pa' Panamà pa sin a atender differente reunioni di Comisión Extraordinario di Salud, Educación, Seguridad i tambi pa' atender reunioni di Asamblea ku ta' toma lugar anualmente na Panamà, den cada reunioni e delegasyon di Aruba ahaya hopi informasyon. Unde e topiko nang mas interesante pa' menciona da ku apapia seriamente riba legalisasyon di cannabis medicinal. Miembro de comissioon di Salud junto ku senyor Glambert Cruz en senyora Marisol Lopestromp en nus tautik in hopi tema nang hopi importante per ond etem na ku wole discutir tautik un declarašon, un projekto de declarašon. Nus tautik na don mochon pa' legalisar cannabis pa' uso medicinal. E tautik in hopi discussioon, hopi de païs nang presente adunas susten, pero a nos de Aruba no adunas susten pa' kui motivo a kui nou wole discutir a ynda den nos comissioon di Salud kinan Aruba, ni ku gobierno, ni ku pueblo, dus nus no atender kinan debidamente a ynda, dus nus no poradunas susten na emosioon aki. Onke ku nus me servisa ku manema bisa nang tambe, nus falta di hopi investigasioon pa' wak profundo kinan Aruba pa' wak uso di medicina si kum quanto ta' necessario kinan Aruba e ku na lo anda ku esaki. Tame falta edukasioon, consensioon, di etema aki. E tambe, ehm. Primae ku bai intrusi algo misse bai pens bongeri bai consekwensi na ku e saki lo porting i kong bote bai prepara i saki kong uste bai karge. Nus tuur tati di akweer ku e ngelik nus no te klappi ainda. I des bespaik mu te ei nus no adunan no susten. En engelik, e to oso ah keta ons porehempo di asset di cannabis e tintura di cannabis? Buak ku hinang!!! Own ti patient na ku ta soe fin di di cancer, di atritis, di blaucoma, di sida, hinang weekends讓 ku ta soe fin di lopi dolore. Dus um na un band ouro bus kuchatur e e motivi nang pak kiko ng ng gay enter u DA è una zona buona, ma anche se pensa bene, come ci sono i risultati, e ci sono le conseguenze, perché è qualcosa che ha le conseguenze buone, ma anche le conseguenze negativi. C'è un paese che acaba di accettare questo, a legale, in maniera Alemanha, Canadà, Bélgica, Bretagna, Rolanda, Chile, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Uruguay, Italia e alcuni in un Stato, anche in America, non ha legalizzato questo, ma non è solo, ma ci sono diverse mali e ci sono più che utilizzare, e per i pazienti che sovrano di mali, non c'è un alivio, è una riscaldanza di vita dei pazienti, non è comproversato, ma ci sono ancora, ma ci sono discutere, ci sono cargare per tutti i loro, non ci sono solo il Parlamento, per noi, 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 per noi all'emotione di questo. Algo che ha chocato di gente che ha annunciato che Glambert Cruz ha annunciato che è e possibili parte della parte del Parlamento del Parlamento che ha sostenuto per la ammiglia di unione civile che ha già introducito durante il tratamento della legge del Código Civile. Cruz ha admitito che dopo la votazione e la reazione del Pueblo non ci sono un po' e che non lo vota contro ora che è un po' convertito in un po' di un po' di un po' di un po' di sa che in masco chiaro significa che è ammiglia che c'è guardando che non ha sostenuto più di maggiori. Algo tempo attra, il leader della Fraccia della 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 Andina Bécca è stato un po' di 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 un che abbiamo fatto il giorno e i due luni e i 20 giorni passati. Che cominciamo a fare un luogo dopo? È necessario, non mi parecer, per il governo di Aruba assumere il liderazgo di comunicare la maniera di una cara al popolo, di comunicare al popolo, informare al popolo, concientizzare al popolo e contenere la maniera di un lavoro approbato. La motivazione per noi, sostituire per noi che votano a favor di un dinam, a favor di un'amiera di un'amiera di un momento, di un modo più corretto per legalmente essere e portare la possibilità di permettere il matrimonio di messo e sexo in Aruba, però a la vez brinda un'forma legal che non ci sembra un diritto di regla di vivere con l'altro. Però in due luni e mei, 20 giorni, il governo non ha di una cara. Il governo è che da quieto. Il governo ha di una cara e il governo è che si è iniziato. E in un luogo politico, noi e noi non vogliamo partecipare. di un tema senso delicato, una iniziativa di AFP, tra il settembre qui, la finalità è come si fuori con questa iniziativa di MAP, questa iniziativa di noi, questa è la nostra carica di conseguenza per avere il sentimento di un pollo che non è d'accordo che diciamo con la nostra famiglia, è realizzata con il Parlamento del Pueblo, di cui non è stata una parte, che dicevo a me stai tenendo in cuenta che ho fatto, che ho deciso, nel final del giorno, non importa controverso, però se vuoi consultare il pollo debidamente, vuoi conoscenziare il pollo debidamente, vuoi informare il pollo debidamente, e per l'altro, ho portato il mandato, il potere, la autorità, per continuare a fare una decisione, che il tipo di decisione nel Parlamento mi sembra di rifliare il sentimento general di un pollo. Il Parlamento ha aviso quello che ha discutito di nuovo e adattato la legge per la natura di gente per accedere e cargare la legge. La discussione del tema non è continuata, ma lo mi guarda, e la prossima è la prossima. Siamo arrivati a seguire. Una notizia interessante che la Power News presenta è la frutta di pitaia. Ma con un uco di Gemi non ti enfocano per la planta che comanda al locale, e sa che ti comanda con persone per come. Power ti viajas in visita nei con uco per mirare il frutto nuovo a qui che ti queda plantando a ruba e che ti ho più buona per la salute. È un prodotto nuovo di 7 anni qui non c'è un frutto maggiore esotico, maggiore sabroso, e c'è una particolarità di beneficio del Gemi. Noi non c'è concentrare a ruba di un prodotto che si chiama il nome scientifico di Gemi di Pitaia, e nel oriente non pone il nome di Dragon Fruit in China e in Vietnam. È un frutto di una buona ruba per motivo che è un cactus in nome di Gemi di Piagua. È un frutto ironico di una buona ruba che è un frutto che è un frutto di 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 un frutto gli altri di un frutto di un frutto Non c'è una frutta che è americana, non c'è insulina naturale. Quindi ci sono chiesto di nutrizioni, e per confermare che ci sono i Nutrition Valley, e ci sono qui ci sono frutti per aiutare il suo suco. Un totale di 30 tragadores che si intrabbano di un giorno per l'altro, ora che il proprietario di un restaurant club, il signor Frox, si accera e porta repentinamente a Ribanan. Non c'è bisogno di aiutare il gruppo di Busturx Cantor, per il governo per l'Azipanang. Il marketing e il sales manager di la compagnia, Star Ramos, explica che avanti un candidato di tragador con una luna per mezzo di Pasqua, che si è senza lavoro. Non c'è bisogno di aiutare il gruppo di Sino Frox, che si accettano un'offerta, quanto si accettano per quattro il signo di un lugao, che si accettano un'upontata che qualcosa di strano sta passato. Sì, va dire che il abogato Lincoln Gomez di Gomez & Baker, explica che è stato passato, di quale problemi riuscano in un mese, e che manda un'altra carta dell'Alan Custer, che è un abogato di la compagnia di Sino Frox, rappresentandoci. sin contesta, mi ha messo, mi ha messo, mi ha messo, mi ha messo un gruppo di staff con i concerni, e mi ha messo con il luogo di cui è passato. Nel final, mi ha messo due reminders, mi ha messo, mi ha messo, niente, niente. Anche, am prospecto di dei suoi gestioni, è un gruppo di personale, che ha messo un gruppo di staff, che non ha messo bene, ma insomma, è un gruppo di cliente, lo staff che è lavorando. Cosa è un gruppo di operazione, Alberto Perez, che mi ha messo, non si sa un'apparo, che senti il sangue, e si è venuto, si è venuto e si è venuto e si è venuto. E lei ha detto che i giorni di prima, che si è venuto a tutti i giorni, perché inizia come avuto in domani, Signor Frog Zeruba è no più. Abbiamo detto che, ovviamente non è stato stressato, l'abogato manda una carta a troppo per Alan Custer, per chiedere un contesto, per almeno informarci che ci sono pagati e che ci sono fatta per risolvere legalmente, non è un contesto a troppo. Abbiamo detto che i nostri amici, che ci sono i miei amici, e poi c'è un spanto a me mi inta, poi appunto Daniel Orcoso, che era una persona che era un meddleman, fuori di mexico, arriva in un luogo, tirava i abbi da mezza e pensava che non ci sono tutti i miei amici. E' la vita, non ho capito che sta passando, e di un minuto di tempo non ho capito, e in un'ora mi lavoro con un volo in Panamà. Noi non hanno contestato, non hanno chiamato, non hanno chiamato, non hanno chiamato per l'abogato, non hanno chiamato, non hanno chiamato, e pensava che ci sono un luogo per mezzo di Pasqua, con 32 membri di staff che si stavano senza lavoro, senza pagare, senza pagare, senza pagare, non hanno chiamato, e le persone stavano. La città della nostra famiglia è un cattore di bacchia, c'è gente nella compagnia che si stavano 18 anni per la compagnia, 16 anni, 23 anni, e mi hanno detto che ci sono famiglia e problemi. E cosa pagano? Si. E chi è il ministro di lavoro? Il ministro di lavoro dice che abbiamo contattato con le istante che ci aiuta, che ci aiuta e ci aiuta, si stanno subito l'impostanza, e ci sono un po' di tempo che ci seguiamo davanti, perché ci siamo cercati di rispondere a fare un'occhiavata, e non ci siamo cercate, perché ci sono stati semplicato, e ci sono stati che ci sono stati, ci siamo stati sentati il lavoro, e ci siamo stati sentati anche al lavoro. luz CPU support rafto senso rit бр telg gli ai avanti con E' un po' triste, quindi non ho chiesto di capire, non ho chiesto, non ho capito di risposta per ciò che ci sta succedendo per il Ciafrox. E' un po' molto grande come si tratta di gente così, come si riuscita per arrivare a Ruba, ma si è possibile per tratta di gente così, come si tratta di tutti gli altri, come si tratta di loro, come come la compagno. E' un po' molto spese che la utilità e la città di Bontavere. E' un po' molto importante, perché ci aiuta e farlo da noi, come noi, come noi, aiuta di noi, e che ci sono stati di persone che ci sono stati a lavorare, che ci sono stati un progetto per il nostro corso. E ci sono stati un'impostante per il nostro corso. E ci sono stati un'importante per il nostro corso. Non ci sono stati un'imposte, ci sono stati un'imposte. Ci sono stati un'imposte. Sì, sì. Durante una conferenza di prensa del indivisio di Dr. Edward Chung's Center for Innovation, ha trovato una conferenza di prensa, ha trovato una conferenza di prensa per il lanciamento di una campagna per stoppare l'uso di saco di plastica in Aruba. Donny Rasmain, come parlamentario di Paese Aruba, ha trovato un'imposte per la proposta e ha presentato il progetto di lei con l'accordo di approvare e anche ancora nel Parlamento di Aruba. Junto con il parlamentario Rasmain, ha trovato un'imposte di la fondazione Green As School e altri stakeholders. Nostra manera che ti conosci è lei che ha passato a Juni, è un'imposte di un'imposte per il Parlamento e ho intenzione per il 1. Januari 2017 che i plastica e i bagni sono qui, sono stati un'imposte. Nostra parlando di un sacco di plastica che ti ha usato per single-use, in un'opi, tiendano, submercato. e ci sono stati un'imposte di un'imposte di un'imposte di un'imposte di biodegradabile e so Gods Norro che non ci sia un'imposte di unica come sia un'imposte di un vanabile Muhammad MassO che ti ha usato di un'imposte di un'imposte di un'imposte. con bene per completo. E di differente maniera non cu gente sin pensa ta causa daio na e fauna, flora e na nos mes tambe. Aja, ta ta support e endorse lei aki. Anto, dor di esse, nos abin cu un saco reusable, cu nosa ordena un luna passa. Aina e non vai llegar, e vai llegar no luna de Januari. E nos lo ting disponible pa ajato su miembro, na paasina, na por promover lei entre trajador e turista na tambe. E turista na trajador na loahaya, e sample na di esaco na reusable aki, paasina, na por realiza e importancia di, di, na, ayuda pa ku e programa aki. Green School Foundation sta un' fundación co haciopi proiecto junto co mochanan young di school, pa asina concientizar mochanan di un edad hopi young, pa ta consciente di nan medio ambiente, e nos haciopi proiecto di ferente, di, na, competencia, na camina mochanan da participa e si hamas ovo de medio ambiente, e que cota energie alternativa, e que cota sostenibilidade triba e nos isla. E, junto ku, omar, juliet, ir, mener asmen, nos ha, vini junto tambe a trobe, e traja, entre otro, el logo pa e mi tas, e ta reusable, e nos tabai colabora tambe pa asina 13, un tas reusable, camino co mochanan di, turista na basico e secundario di Aruba Lopordumei, e traja un disenho pa bairro un tas, cu, un tas cu ta completamente reusable, e ta, tam e trajado un material, yote, cu ta, un material cu ta, bom pa medio, o fea, cu ta sostenible, e no ta dañino pa medio ambiente, e idea ta cu, eh, disenho nan ganador, tabai ando a privectas aqui, e cu, eh, fondo nan ku nos recaudar, tabai bec den e, tabai bec den e fundación, e asina e Green School Foundation, por sigi hazi proiecto nan pa sigi concientiza e mochanan yang na Aruba, con importante medio ambiente ta, e pa kiko, anosta hazi a Saki. Saki ta algo ku, naturalmente, nos ta apoya, eta waru, eta bea afecta nos turista nan, e nos ta aude jasai, e como partner de Saki, nos ta preparando e contribuyendo, ah, komo tal, nos tinko pones aki, tam e riba nos plataforma digital, pa si nos po informan, nos turistanan, ah, de un manera debido, kuerna yekinamper e indianibari, ku, esaki nota algo ku ta avanza ospreikant mas. Eta algo ku, actualmente, nos ta beise junde, ah, ad ente, tam e nos haciendo, para otro proiecto san, ku lo guardo devolgade in su debido tempo, pero, sin embargo, si eta algo ku, nos ta kere den, completamente, y nos ta agradeci, ku pueblo, tam e por, haia oportunidad, Papu Makmei, algo sin, istoriko, ku isla, porta un parte di cincuenta, setiz, komunidad, naku, por, aceptar, e, em, absorba algo sin. Manera, ku mundo ta ganando, nos ta lideri berdiferente terreno, akina na Aruba, Kaba, imita kere aeropuerto, no, no, porque da foto, tampouco, di un proiecto, asin, aqui. Pa, aeropuerto, kiketanifika, aeropuerto, ta, e, prome, imprexion ku turista, pasajero, ta, haia, ora, ki, llega Aruba, aeropuerto, tabi, percurar, pa, poni, cierta notifikaxionan, ront, informando, ya, kabe, pasajero, nan, di, kiko, nan, pospera na Aruba, onda ku, e, parte, di, uso, di plastic bags, ya, kaba, noti, permiti, desde, prome, di, anuari, dus, pa, nos potreze, informaxion, ak, ki, pero, banda, di, sei, aeropuerto, ya, kaba, pa, agun, anuari, ya, kaba, den aeropuerto, mes, nota, usando plastic bags, mas, nus, di, un tas, pechal, ku, awaru, traha, onda ku turista, ku, ha, si, compras, den aeropuerto, ta, risibi, un tas, reusable, onda ku, di, un calidad, un tiki, mas, haldo, ku, nan, por, usa, una, bez, ku nan, sali, fu, di Aruba, tambe. Nus, ta, purba, ku, ta, genan, ku, in mentalidad, enan, ku, no, solamente, na Aruba, pero, tambe, ora, ku, nan, sali, nan, paiz, bak, tambe, nus, ta, purba, de, encorajan, ku, nan, por, hasi, uso, di etas, e, ala, bez, usando etas, buto, propagandano Aruba, tambe. Nus, ta, considera, sa, ki, un gran logro pa, nos, isla. Nus, ta, spera, tambe, ku, e, genan, anu, ta, guarda, pa, pa, sa, ki, bira, un problema, di polis, pa, polis, mis, te, vai, treinta, supermarket, ku, tienda, pa, saca, saco. Pa, nos, esa, ki, un comienzo, mas, bien, simbólico, pa, generan, na Aruba, comprande, ku, nostur, mestre, participa. Ku, se nostur, ha, si, un sacrificio, chiquito, nos, kami, nos, costumbre, dis, un tiki, ter, sun, tas, re, usable, demo, supermercado, furba, vai, un tienda, en vez, di, vai, saco, plástico, casco, despues, tabula, vai, ta, colga, fe, mata, tabai, de, la, mata, mata, tortuga, mata, pisca, et, un costumbre, chiquito, comesta, cambia, se, bo, cambia, costumbre, e, chiquito, nos, tu, te, ayuda, nos, isla, queda, mas, bonita, e, nos, te, ayuda, nos, 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 marine life. Y, a, mi, te, quiere, tu, un dia, hopi, hopi, great, mi, te, visa, hopi, satisfactorio, no, solamente, petin, pero, pa, Aruba, en general. Sa, que, tu, un, stop, hopi, grande, cami, nos, te, visa, en verdad, ku, nos, trajando, duro, pa, me, joran, nos, aruba, me, joran, nos, nos, sistema, di, viva, y, mi, te, quiere, tu, un dia, hopi, importante, pu, tu, re, ambientalista, na, persona, na, te, quiere, fielmente, de, nos, mi, ambiente, a, ve, tu, stop, hopi, grande, que, logra, aquí, de, le, no, bo, de, nombre, de, gobierno, mi, te, quiere, a, mi, no, que, ra, vai, mas, of, de, tu, re, detalle, na, paso, cada, gente, toca, detalles, na, cava, pero, de, nombre, de, gobierno, un, pa, bien, hopi, hopi, grande, y, nos, espera, con, os, pueblos, de, arruba, comprande, e, 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 proiecto, comprande, lo, que, ta, pasando, imita, queren, imita, hopi, segura, coi, lonto, difícil, pa, nos, por, cooperar, mito, vista, de, moda, bonita, coi, proiecto, aqui, pa, so, hopi, via, o, nos, vai, afo, de, vacancie, of, nos, vai, viva, si, no, sta, no, sta, no, sta, bai, me, co, tu, re, regla, and, afo, por ejemplo, nos, vai, viva, Holanda, tu, re, gente, ta, cumpri, debidamente, per, me, te, queren, lo, tu, monti, ki, tempo, pa, non, por, comisar, por, e, sa, que, te, forma. E lei di uso di saco di plastic da 30 na vigor, promedi, anuari, 2017. Casi, na final di november, a ruba, guardo, sorprendi, pa, lampa, ristriano, fuerte, segui, pa, un palo di agua. Desa, marduga, acaba, comiso, sinti, e, fecto, non, qua, continua, te, co, ora, na, di, mardia. E, sa, que, causa, co, diferente, aria di nos isla a inunda. Por, bise, co, desuezi, ho, pi, aña, a ruba, ta, haya, sina, tanto, awa, mirando, e, daño, co, le, laga, atras. No, taba, ta, ting, ningun, aviso di parte, di, servicio meteorologico, co, pone, co, e, tormenta, sin, number, a, kia, ha, si, su, efecto. E, aria di, north, ima, di, kitabate, sunang, mas, afecta, co, pone, co, habri, e, promes, shelter, na, club, Don Bosco, pa, comisa, dun, asistencia, na, es, nang, afecta. Socializzacan, junto con Rode Cruz, adonan man na eshelter, va, sin, aiude, famílias, nang, que, lo, necesario. Go, bi, arna, di, arruba, junto, kultur, otra, instancia, a, donan, conferencia, di, prensa, va, sin, adonan detalle, di, lo, ki, tabata, pasando. Un, aria, de, la, grande, di, nos isla, a, wardo, cubri, kuturi, awo, cero, aquí, eto, trato, di, un, sistema, convenzional di entro tropical che è un sistema che può pronosticar di una forma di adelantare la tempestade non tropicale che è venuto a Aruba la quantità di acqua cero è rimarcablemente alta abbiamo medito nel momento quasi 69 mm quasi 70 mm di acqua si ponendo in comparazione con il metro con la cori di 40 mm si sta parlando di una quantità molto grande di acqua noi stiamo traendo per la sala di emergencia di Rampo Bureau che è venuto una quantità di departamento che è essenziale per dare assistenza nella nostra comunità nel momento naturalmente per pronosticare il tempo che va bene e che come lo messerano così per motivo è anche il metodologo di Dins di Bacchermeyer che è direttore interino di Mediolocchi di Dins di Sintacinam e di Sintacinam di Staf di Brandweer di Sintacinam di Sintacinam di Sintacinam e naturalmente di Sintacinam 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 e di Sintacinam di Sintacinam di Sintacinam di Sintacinam quindi . ConBaschim i PET sdi di Sintacinam inanza ora si si fai la majamente com lei sa che click ai Dito di Cuba che hai menzionato, ora che abbaccavistò piove, noi stai infinteressi e fare una cosa che ci sia più molesto. A base di noi, il nostro plan, con queste pompe, per aiutare l'acqua e l'acqua più lento possibile. Mestri ha menzionato che ci sono qui dopo il tempo, Aruba ha contato con due tormenti fuerti, che è stato fatto con mezzo, e dopo la tormenta tropicale qui ha fatto la vasta destruzione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.